Ciao Marco e ciao a tutti gli amici di questo tuo vlog. Io come vedete sono in cucina, sono quasi pronto per preparare la magnonese, una ricetta che ovviamente ha inventato Marco, però a me piace molto e quindi gli abbiamo dato il mio nome e sono molto contento di questo. Voi cosa state preparando? In cucina anche voi? Dai, mi raccomando, poi dopo aver mangiato bene, perché bisogna sempre mangiare bene, tutti a nuotare con me, ok? Ricordatevi mangiare e muoversi sempre. Ciao!